a erba capita passeggiando per questa via corso artesaghi cosa si trova di bello il nostro presepe ecco come mai fuori da questo negozio storico il presepe ma ogni anno un'idea nuova quest'anno cartone come mai cartone questo riciclo quest'anno appunto abbiamo deciso di utilizzare il cartone dato che con gli ultimi avvenimenti del maltempo sono andati persi un sacco di alberi e allora ho deciso di utilizzare fare sia l'albero di Natale che il presepe tutto con cartone riciclato zero impatto zero impatto comunque è bella l'idea di mettere a disposizione di chi passa nel senso di vederlo non di portarselo via a disposizione di chi passa questo questo lavoro fatto anche con un occhio al passato muschio pezzettini di quercia di legno no legno cos'è sì poi lì è tutto sono rami di ortensia del nostro giardino sempre riciclo sì esatto tutto riciclato e ovviamente le figure sono le classiche la capanna e dietro dietro un bel albero anche lui guarda un po in cartone anche lui con abbellito con delle delle pine del del nostro parco e che sembrano tante roselline atto sì e la stella è fatta con pezzi di quercia no di corteccia di corteccia cos'è pino no ma corteccia via in generale sì l'anno scorso cos'era il tema invece l'anno scorso invece l'avevo fatto tutto con utilizzando attrezzi del nostro lavoro di acconciatura e tutto con dei flaconcini macchinette pettini bigodini era un po più futuristico come come presepe quest'anno invece un po più classico classico bello simpatico divertente e soprattutto come dire il fatto che sia qui su una pubblica via dice lunga anche della passione che si vuole far partecipare sia i clienti che i passanti tutti gli anni mi chiedono cosa cosa faccio cosa faccio di nuovo e quindi ogni anno propongo una cosa diversa naturalmente già stai pensando al anno prossimo a quest'anno però non si svela nulla e vorrei dire che ci ritroveremo qui a vedere l'anno prossimo cioè quest'anno e poi anche l'anno prossimo l'anno prossimo grazie grazie a voi grazie soprattutto della simpatica idea di far partecipare chi passa la gioia del natale al dono del natale grazie auguri a tutti